Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale, sono Divix, il titolo è provocatorio, però devo dire che questa volta mi sento di essere dalla parte della ragione. Sono stato quasi tentato di riaccendere la lampada, questa qua, lo sapete che è spenta perché l'Inter in questo momento non mi sanno soddisfazione a livello di gioco. Ho deciso poi che la riaccenderò solamente quando rivedrò la vecchia Inter, cioè quella che abbiamo ammirato dalla settembre a dicembre. Ma oggi parliamo del rinnovo di Marcello Brozovic e prima di iniziare il video devo dire una cosa importante. Tutti quanti in relazione ai rinnovi e le scadenze dei giocatori stanno continuamente parlando di soldi e basta. Io mi sono speso e l'ho fatto in più di un'occasione sia quando riguardava l'Inter sia quando riguardavano le altre squadre e vi ho detto che non è sempre il denaro quello che muove i giocatori, quello che fa scegliere i giocatori di andare da una parte o dall'altra. E proprio in questo caso, con il rinnovo di Marcello Brozovic, è arrivato dopo quello di Barella, dopo quello di Bastoni, mi sento di dirvi che l'Inter in questo momento è una squadra differente e la nostra dirigenza sta facendo veramente la differenza. Vi dico tutto, scrivetevi qua sotto cosa ne pensate, ma prima guardate il video, buona visione. Fino a 10 anni fa, 15 anni fa, pensare di andare a scadenza era qualcosa di allucinante. Mi è venuto in mente il caso di Goran Pandev, ricordatevi la manfrina che è successa con Lotito che poi lo liberò a gennaio, un giocatore che voleva andare in scadenza, non voleva più giocare con la Lazio, voleva fortemente l'Inter e passò proprio la squadra nerazzura tra le polemiche infinite, era anche andato fuori rosa con la Lazio. Era qualcosa di stranissimo, non succedeva quasi mai, è capitato in passato, ma soprattutto quando si parlava di grandi giocatori era un qualcosa di straordinario, delle eccezioni. Adesso, negli ultimi anni, ormai è quasi la normalità. Ogni anno c'è una serie di giocatori che sono tutti in scadenza e ogni anno questi giocatori sono sempre più forti. Ho visto oggi la lista dei giocatori in scadenza l'anno prossimo, ci sono una serie di campioni incredibili che a pensarci 6-7 anni fa ci saremmo messi tutti quanti a ridere. Gli esempi sono vicini a casa nostra. Io in copertina ho messo Chessy, che ha firmato col Barcellona, e Dybala, che ha annunciato non rinnoverà con la Juventus. Due casi diversi, o forse no, però poi, parallelamente a questi due casi, in questi giorni c'è stata l'ufficialità che Chessy lascerà il Milan e Dybala lascerà il Juventus, l'Inter ha deciso di ufficializzare il rinnovo di Marcelo Brozvic. Un giocatore che quindi praticamente chiuderà la sua carriera all'Inter, un giocatore fondamentale, ormai lo sappiamo, quando non c'è Marcelo Brozvic l'Inter non vince, sembra una costante dal quale non si può scappare, noi riusciamo a trovare il bandolo del gioco senza Marcelo Brozvic, e proprio in questo momento vi spiego la differenza fra l'Inter e le altre squadre. Vi ho detto che non c'entrano soltanto i soldi, e lo si vede fortemente dal fatto che i giocatori dell'Inter che hanno rinnovato, tutti quanti, sempre e comunque, hanno detto voglio rimanere a giocare nell'Inter. Mi soffermo sul caso Cianoglu, perché qualche tifoso mi ha scritto ehi, sono mercenari, inseguono i soldi, come Donnarumma, Cianoglu, che sì, ma siamo tutti realmente sicuri che questi giocatori sono andati a inseguire i soldi e non sono andati a cercare altri progetti? Siamo sicuri che Dybala abbia chiesto solamente 10 milioni all'anno e non abbia chiesto garanzie di poter giocare nel suo ruolo o che magari l'allenatore l'anno prossimo fosse uno diverso, tipo uno che lo facesse giocare sempre con continuità? Siamo sicuri che quello che ci dicono i giornali, e cioè che sono tutti mercenari e che cercano soltanto i soldi sia l'unica verità. Per inteso, i giocatori sono professionisti, pertanto devono massimizzare la loro carriera, che dura 15 anni, al top, cioè quindi ai massimi livelli. Però, poi, c'è anche da dire che, oltre ai soldi, i giocatori hanno anche la voglia di vincere. Io mi ricordo il momento in cui Cianoglu faceva vedere la Coppa a Simone Inzaghi, quasi emozionato, la sto parlando della Supercoppa Italiana ovviamente, gli diceva, questo è il mio primo trofeo. Ed era emozionato nel dirlo, se voi guardate la faccia di Cianoglu in quel momento, era proprio emozionato. Quindi, io vi dico, sono sicuro che tutti i giocatori cercano sempre di massimizzare i contratti e sono poi i procuratori a farlo, perché possono chiedere una percentuale maggiore. Ma poi i giocatori vanno alla ricerca di un progetto anche, che possa esaltarli, tecnicamente, tatticamente, e che possa permettere loro di vincere i trofei. Il caso di Brozovic, il caso di Barella, il caso di Bastoni, è un esempio di giocatori che hanno scelto di rimanere all'Inter senza neanche guardarsi intorno. Brozovic avrebbe potuto farlo tranquillamente, sicuramente le sue prestazioni non sono passate inosservate in Europa, si sapeva che c'erano squadre interessate, ha voluto fortemente l'Inter, ha trattato il contratto e soprattutto non ha avuto fretta di farlo. Cioè non ha avuto fretta di pretendere di avere un contratto firmato entro il 31 dicembre, ma l'ha fatto a marzo, tre mesi dopo il periodo in cui lui avrebbe potuto già firmare con un'altra squadra. Questo per me è un segnale importantissimo, è un segnale che i giocatori dell'Inter rispettano la dirigenza Inter e credono in questo progetto. Ci credono fortemente. Perché Brozovic non sta guadagnando 12 milioni di euro all'anno, 6 milioni di euro, quelli che prende Lautaro, quelli che prende Barella, quelli che prende Brozovic, sono cifre che le grandi squadre europee ti danno, tranquillamente. Tranquillamente, se vuoi cercare i soldi, questi soldi li prendi. Quindi non sono rimasti qua per soldi, sono rimasti qua chiedendo una cifra congrua alle loro prestazioni, al loro livello che è aumentato, ma sono rimasti qua perché credono in questo progetto. E noi dobbiamo prendere atto di questa scelta dei giocatori e esserne orgogliosi. Perché per una volta, visto che è un periodo negativo, dove ci arrivano sconfitte, pareggi, brutte notizie, sembra che vada tutto male, possiamo dire che in questo momento così delicato il rinnovo di Brozovic rappresenta il più grande successo del progetto Inter e della dirigenza Inter. Perché dall'altra parte del Naviglio, un giocatore come Chessy, in un momento in cui la sua squadra è prima in campionato, va a cercare il Barcellona e va a firmare col Barcellona cercando un progetto diverso, probabilmente più adatto a quello che lui ritiene il suo livello. Quindi quello che vi voglio dire è semplicemente che i soldi nel calcio ancora oggi contano, anzi, conteranno sempre di più perché il calcio è un business, il costo dei cartellini tra dieci anni, secondo me, non esisterà, saranno tutti i giocatori che andranno a scadenza, questa è la mia previsione, che potrebbe essere veritiera o meno, ma comunque sia io credo che andremo in quella direzione lì, si faranno scambi o comunque i giocatori firmeranno contratti corti e potranno andare a scadenza tranquillamente, si prenderanno tanti giocatori a scadenza e saranno sempre più importanti i progetti tecnici e tattici, molto importanti, perché adesso come adesso i giocatori sanno che firmano e dopo un anno possono andare via. Guardate il caso di Hakimi, guardate Lukaku che aveva giurato a Moretano all'Inter, quando arriveremo ad azzerare il costo cartellini i progetti diventranno sempre più importanti e in questo momento ricevere questi rinnovi in un momento così delicato per me è un grande successo per noi tifosi e per l'Inter in generale e quindi ne vado fiero e orgoglioso e sono contento di fare questo video col sorriso stampato sulla bocca dicendo ai nostri amici milanisti e giuventini che noi, i nostri campioni, li stiamo tenendo non stretti ma strettissimi e se qualcuno li vorrà, ce li dovrà pagare a caro prezzo. Questa è la mia opinione, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate, come sempre ci vediamo al prossimo video, se non siete iscritti al mio canale e vi piace il calcio, ma soprattutto se vi piace l'Inter iscrivetevi. Ciao ragazzi.